Maggioranza non proprio bulgara anche in seconda convocazione, ma ieri sera 11 consiglieri pro greco hanno dato il via libera al piano economico finanziario dopo settimane di tentativi andati a vuoto. Solo due esponenti di opposizione sono rimasti in aula votando contro il PEF portato in consiglio. Il consigliere di Rinnova, Alessandra Hachel, Demgetan Orlando non hanno condiviso i contenuti del piano spiegando le ragioni del loro no. I pro greco questa volta hanno messo da parte le tante incertezze dai forzisti e fino ai civici passando per i centristi. Salvatore Incardone e Vincenzo Cascino tutti presenti si sono schierati con il sì davanti al sindaco Lucio Greco. Il PEF adesso è stato approvato. Il sì degli 11 di maggioranza è arrivato anche per approvare il provvedimento sulle tariffe etari. Questa volta a differenza del PEF senza il centrista Salvatore Incardone che ha lasciato i lavori ufficialmente per impegni personali anche se la sua posizione tra i pro greco sembra poter aprire qualche riflessione in più. Sulle tariffe etari è stata piena bagarre tra gli alleati del sindaco e il drappello di opposizione. Alla fine sono stati cinque voti contrari tutti espressi per forti perplessità rispetto alle tariffe portate in aula dall'amministrazione comunale. I consiglieri Paola Giudice per Palo Grisanti, Vincenzo Casciana, Gabriele Pellegrino e Alessandra Haccia hanno tutti chiesto lumi sul rispetto del contratto e su quelle che ritengono tariffe non in linea con un servizio rifiuti carente. La diatriba si è subito aperta. Il capogruppo di un'altra Gela, Giuseppe Morselli, non ha mancato di richiamare quella che fu la gestione rifiuti del PD quando era sindaco l'avvocato Angelo Fasulo per contestare la posizione della Demgetan Orlando che a sua volta si è schierato per il no alle tariffe etari. Nel corso del dibattito sono ritornati anche i costi in più legati ai servizi aggiuntivi. Orlando invece riferendosi alla situazione attuale ha indicato una città più sporca e tariffe aumentate, considerazioni respinte dalla maggioranza. Anche il consigliere comunale di impegno comune, Valeria Haccia, ha richiamato il ruolo del PD contestando la linea espressa non solo dal consigliere Orlando ma anche dall'ex dem, il consigliere Alessandra Haccia. Ha fatto infatti riferimento ad un PEF arrivato in aula che si riferisce al periodo dell'ex assessore del PD. Anche i forzisti hanno sostenuto sia il piano economico finanziario sia le tariffe. Il dirigente Alberto De Petro ha più volte posto l'accento sulla modifica della normativa in materia e ha comunque indicato tariffe in linea con quelle degli anni precedenti. Il sindaco Lucio Greco ancora una volta non ha usato mezze misure. Ha detto basta ai teatrini da parte dei soliti consiglieri di opposizione. Secondo Greco ci sarebbe una forte strumentalizzazione volta solo a gettare fango sulla sua amministrazione comunale. Si è detto stanco dei trasformisti che prima erano in maggioranza e ora attaccano dall'opposizione. Sui temi legati al PEF e alle tariffe etari ha spiegato di non accettare attacchi soprattutto dal Partito Democratico. La maggioranza che continua a soffrire di numeri che non danno garanzie assolute si è ritrovata per il rotto della cuffia pochi giorni dalla scadenza dei termini per l'approvazione del PEF e dell'Atari. Gli undici hanno retto in aula anche se la verifica continua a sembrare quasi indispensabile ora con l'aggiunta dei tentennamenti delle centriste in Cardona. La prossima prova del nove si avrà con gli atti finanziari.